Le cinque vittime del crollo della palazzina, avvenuto a Barretta il 3 ottobre del 2011, verranno ricordate in occasione dell'anniversario del tragico evento, in un incontro che si terrà domani alle 11.15 nell'aula magna del liceo classico Alfredo Casardi, la scuola frequentata da Maria Cinquepalmi, la quattordicenne che morì tra le macerie. Nel crollo morirono quattro operaie, Antonella Zazza, Giovanna Sardaro, Matilde Doronzo, Tina Ceci e Maria Cinquepalmi, figlia del proprietario dell'opificio al Pianterreno, dove le donne lavoravano. All'incontro parteciperanno i rappresentanti dell'amministrazione comunale, gli studenti, gli insegnanti, i parenti delle vittime, per una riflessione sulle regole e i doveri della convivenza civile. Previsto anche l'intervento del prefetto Clara Minerva. Alle 12.21, ora del crollo, sarà reso omaggio alle vittime di tutte le sciagure edilizie in città, tre per l'appunto, quelle di Via Magenta nel 1952, nella quale morirono 17 persone, Via Canosa nel 59, in cui ci furono 58 vittime, e l'ultima di Via Roma nel 2011. Con un minuto di silenzio, la comunità ricorderà quegli eventi tragici e le persone scomparse. Il sindaco di Barletta, Pasquale Cascella, ha invitato allo stesso atto di omaggio tutte le scuole, gli uffici pubblici e i luoghi di lavoro.